Buongiorno, questo episodio è stato sponsorizzato da Palline Italia. Oggi parliamo dell'aggettivo breathtaking, 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 che è un po' difficile anche da pronunciare, che vuol dire mozzafiato, proprio letteralmente, mozzafiato, breathtaking, ti toglie il fiato, ti prende il fiato, taking, prende, breath, fiato, ti toglie il fiato, capito? La vista, il panorama dalla cima della montagna, ti toglie il fiato, è mozzafiato. They gave a breathtaking performance, ok? Quindi hanno dato una performance straordinaria, mozzafiato, senza, cioè, proprio, capito? Cioè, una roba, capito? Sensazionale. Sono un po' addormentato. Come faccio a svegliarmi? Ve lo faccio vedere subito, così. Miau, 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 miau! Ciao, ciao! Grazie a tutti.